Un uomo capovolto. Qual è una delle lame più dense di significato di il libro di Thoth? Commento. Una degli arcaneo delle lame o carte più note di il libro di Thoth è la dodicesima, chiamata l'appeso. La carta rappresenta un uomo capovolto, con la testa in giù, appeso per la caviglia una corda. Raffigura l'evoluto, che appunto perché tale vede la realtà capovolta rispetto a come la vede l'uomo comune, e cioè non più in funzione dell'io, ma in funzione degli altri.